Serata d'amore al Festival sui Sentieri degli Dei. Dopo sei anni di assenza, la pianista statunitense di origine coreana, Su Song, torna sul palcoscenico di Agerola per un concerto davvero molto emozionante. Con le sue acrobazie pianistiche ha ammaliato il pubblico, che non ha opposto resistenza e si è fatto trasportare in una serata concepita esclusivamente per il Festival sulle note di alcuni dei più grandi compositori. La pianista, che vanta studi a Parigi e Budapest, si è esibita sul palco allestito all'interno della splendida corte di Palazzo Acampora, con un programma che comprendeva tra gli altri Debussy, Liszt, Beethoven, Chopin e Neomorricone. Molto apprezzato anche l'omaggio a Stelvio Cipriani, il compositore recentemente scomparso, già ospite del Festival, che ad Agerola ha dedicato un suo componimento. Sono molto felice, ho iniziato con Agerola per nuova vita in Italia. Agli impegni dettati dalla carriera da musicista, Siu Song affianca quelli di natura sociale. La musicista sostiene infatti l'azione di organizzazioni no profit ed attraverso la fondazione Amoris, di cui è cofondatrice e presidente, sostiene gli studi alla musica di giovani allievi provenienti da famiglie disagiate. Siu Song si è detta molto felice di essere nuovamente ospite di Agerola, luogo ideale per lanciare il suo messaggio di amore e di pace. Il mio messaggio è che l'amore può vincere tutto. Messaggio condiviso e rilanciato dal sindaco Luca Mascolo, che dopo aver sottolineato la necessità per l'umanità di scoprire i sentimenti di armonia e solidarietà, non ha nascosto la soddisfazione per un ritorno molto gradito, che inaugura il protagonismo di artisti internazionali in attesa dell'esibizione della cantante israeliana Noah, prevista il prossimo 27 agosto. Su stasera viene a raccontare una storia d'amore, una storia d'amore legata alla bellezza del creato, al creatore, ma anche legata alla bellezza di questi luoghi, al suo amore per questa terra, lei che viene da così lontana. Noah è la cantante per eccellenza del dialogo, della solidarietà, della pace, e noi vogliamo proiettare il futuro della nostra terra in una dimensione sempre più di dialogo fra i popoli, di risoluzione dei conflitti col dialogo, solidarietà e pace.